La consigliera Erika Borghesi del Partito Democratico ha chiesto in un'interrogazione di conoscere le ragioni dell'interruzione del servizio circoscrizione 4.0 nella sede dell'ex circoscrizione di Ponte Felcino in via Mincioni. Tale servizio, inaugurato a fine 2017 e in funzione dal 30 gennaio 2018, ha ricordato Borghesi, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di tramite tra i cittadini e gli uffici comunali mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche in modo da ovviare sia all'abrogazione legislativa delle circoscrizioni sia alla scelta dell'amministrazione di chiudere gli uffici decentrati del Comune, Pur presentato come un passo importantissimo nella complessiva opera di digitalizzazione dei servizi comunali, il servizio non è più attivo e unica testimonianza della sua passata esistenza è il cartello di indicazione stradale. Borghesi ha quindi chiesto, oltre ai motivi dell'interruzione, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti all'epoca, se, con quali tempistiche e per quali finalità, sia previsto l'utilizzo in futuro dei locali dell'ex circoscrizione ancora inutilizzati. Nella sua risposta l'assessore Gabriele Giottoli ha spiegato che il servizio dal punto di vista tecnico è funzionante nel punto di erogazione istituito in via sperimentale dall'attivazione ad oggi. Quanto iniziato con il progetto circoscrizione 4.0 nel 2017 è divenuto fondamentale punto di partenza per l'erogazione di servizi in telepresenza a cittadini e imprese, andando di fatto a portare il comune di Perugia in remoto a casa, nelle imprese o in altri enti, in modo sicuro e affidabile.